Ciao a tutti ragazzi, io sono Bernic e oggi siamo qui in un nuovissimo video in una nuova, cioè nella prima mappa che faccio del canale, ma una mappa wow che vi lascerò il codice in descrizione anche se mi sa che sarebbe già usato. Ah è vero, anche qua sopra la mia testa vedete che lì c'è il codice, ragazzuoli questa mappa praticamente è 1v1 io contro Daniele e faremo 1v1 in questa mappa wow, io sono appena morto perché non pensavo che mi venia addosso, comunque ragazzuoli vi invito a lasciare un bel mi piace, iscrivetevi al canale e niente, basta. E quindi di condividere, l'ho già detto di condividere? Ah beh io lo ridico non mi interessa. Ok ne so. Ah no! Lo porco schifo! Oh bella l'ega, bella 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 bella. Guarda te mi paghi. Vai. Ho riuscito a fare il parkour però. Hai trovato una stella, un baret o qualcuno. Dai ma io stavo costruendo io cavolo. Non so che lo ti posso costruire. Cosa fare il parkour? Cosa mi dovrei dire? E io stavo costruendo. Ragazzuoli. Allora. Questo video non giurerà tanto. Come hai fatto a fare il parkour? Headshot, headshot ed shot bella. Ma con cosa? Va bene. E in botte, e in botte. Ma eh io si ho provato con il, con il check. Sì ma come hai fatto a fare il parkour? Eh non te lo dico mica. ragazzo la legge a fare più oh ma che buona sono un po' scattivo non so dov'è quindi ho un'ansia ho scoperto il parkour che non è un parkour bella oh caro ragazzone 2 kill speriamo di vincere questa 2 vabbè non ci potevo fare niente ma ti ho preso almeno no ma come no non ti tenete i colpi poi vedrai nel video che non ti entrano i colpi che non ti sono in tanti colpi oh mi metti ansia bella ma come ho messo a prendermi come fai a prendermi da tutti i muri c'era una gamba dai dai raga dai raga che questa hai vinta va bene ho fatto ho fatto una cavolata estrema però dai giusto per aiutare danni per aiutare danni a recuperarmi ho paura e io non so dove sei mi sento camminare ah dai raga you are dead quanta vita hai non te lo dico quanta vita ho ah ma io alla fine ho 4 kill non ho 2 kill che infarto che infarto scusate ragazzi ho urlato e scusate e scusate io voglio la mitragliata silenziata Nicolò anch'io io non ce l'ho e neanche io ce l'ho eh neanche io e neanche io no tu dove sei io ho tantissima vita quindi non ho paure ah vabbè però lì vi piglio questa raga ho una paura bestiale ho pure il controllo a scarico che mi aiuta eh no io l'ho cambiato raga anche io ce l'ho fammi lo cambiare anche a me ma veloce veloce quanto è caldo oh ma non lo troviamo non lo troviamo raga non lo troviamo e neanche io trovate che caccia vuol dire Nicolò ho trovato della TNT bimbo il famello ti ho sentito robollina che non so dove sei ma quando ho detto che ho trovato della TNT ti ho subito visto oh che bimbo il fame ah da dove? ma che caccia? ma mi rilancia io non lo sapevo eh sì e infatti avevo detto che avevo tantissima vita a me pensavo che ne avevi veramente tantissimi dai ho sentito sponare qua in giro ho sentito camminare vedete ah Nicolò stai sparando le grane a te se cedi? no dimmi di no 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 quanto probabilmente sento e perché anch'io ti sento ho una paura bestiale mi schiaceremente io uso quel trucchetto per vedere dietro gli angoli mi sono troppo ansia no ma cosa? quanto è vita hai 18 di vita raga te quante kit sei? sei sei? ma non va bene te? Nicolasti vede te? avevo 10 di vita te quanti che ne sei? io ho 7 adesso no non ci credo ok raga ma che fai te svicciare così? eh ho sviccio non è copa mia ma che sei? sei qua sicuro? messaggi in frattempo che mi arrivano? che mi arriva 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 messuole andiamo a cercarlo che è questo qua ha una paura bestiale raga anch'io una roba pazzesca una roba pazzesca una roba pazzesca ok bella raga che stai così mi ammazzi? puoi te per questo punto dai ma io non ti potevo ammazzare ho appena sporato senza 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 io sono scassissimo io è strano che riesco a battere ti riesco a batterti dove sei? ma devo camperare per 30 secondi così non ti becchi la kill e non vinci ho paura dai crivio dai dai non camperartela posso ancora la doppia faccio un po' la doppia ah si ho finito ho finito ma io non ci credo raga godet raga dai va bene ragazzi credo che il video io lo finisco qua eh anch'io ok ragazzi direi che per questo video tutto e noi e noi come al solito ci vediamo al prossimo video vi ricordo di lasciare un mi piace di condividere di iscrivervi e niente io vi saluto